Per capire come veniva gestito il fenomeno della tirannia nell'antica Grecia si devono prendere in considerazione due punti ovvero sia in primo luogo appunto il tema dell'ostracismo e in secondo luogo il tema delle missioni perché il tema dell'ostracismo nella realtà democratica intesa come isonomia democratica era una risposta importante ovvero sia nel momento in cui noi abbiamo paura che costui possa diventare un tiranno o acquisisce sempre più dentro sé poteri che vediamo possano effettivamente portare alla tirannia. Quindi da questo punto di vista ha un'imposizione di costui su di noi noi lo ostracizziamo questa è una metodologia molto importante che l'antica Grecia ha sviluppato in particolar modo nell'età classica quindi successivamente al periodo dell'età arcaica probabilmente quando si è passati da un'isonomia di stampo oligarchico inteso aristocratici a un'isonomia in verità in senso democratico praticamente quindi della partecipazione in senso più evoluto. Quindi quando tu ostenti quando tu mostri troppo noi ti buttiamo fuori dalla città questa è la metodologia tramite cui poi a un certo punto lo stesso Pericle aveva paura ecco perché lo stesso Pericle poneva attenzione a ostentare la sua ricchezza ed ecco perché poi effettivamente poneva l'attenzione anche a dove andava ad Atene. Quindi punto 1 l'attenzione all'ostentazione della ricchezza era importante per in tal senso non essere ostracizzati ed esiliati tuttavia c'è anche propriamente il tema delle missioni cioè il tema della tirannia si rifà tuttavia al tema del pacificatore. Questo lo vediamo perfettamente per esempio nel tema del colonialismo con una figura importante in realtà prima di tutto con il rapporto Siracusa Corinto Siracusa colonna di Corinto in un episodio del quarto secolo avanti Cristo quindi comunque successivo a Pericle ma che è un episodio importante esemplare che ci fa capire in realtà questo tipo di atteggiamento dei greci contro la tirannia. Probabilmente appunto nel rapporto tra appunto Siracusa e Corinto ovvero sia tra una tirannia attenzione della Magna Grecia con una potenziale tirannia della Grecia infatti attenzione a un certo punto i siracusani erano stufi della tirannia di Dionisio appunto prima di Dionisio primo e poi di Dionisio secondo il figlio di Dionisio primo e cosa che fecero a un certo punto dunque già che erano stufi del fatto che c'era questo tiranno che era in combutta con altri tiranni che era in conflitto con altri tiranni che imponeva su di loro determinati tipi di coercizione andarono a Siracusa mandarono i siracusa andarono scusate i siracusani mandarono degli ambasciatori a Corinto e chiesero attenzione ai corinzi di mandare di fare una spedizione per liberare appunto Siracusa dalla tirannia. Attenzione perché ho detto doppia tirannia cioè tirannia in Corinto perché fu proprio un atteggiamento di stampo antitirannico che portò i corinzi poi a decidere l'uomo che sarebbe dovuto andare a Corinto e scusate a Siracusa per liberarla. Infatti cosa che accade fu scelto l'uomo timoleonte di Corinto perché fu proprio scelto lui timoleonte beh perché badate bene all'inizio appunto in questo periodo storico ci fu un rapporto molto teso tra il fratello di timoleonte timofane e Corinto in generale. Cioè si aveva paura che questo timofane potesse sempre più prendere il potere e acquisire anche sempre più potere che de facto stava sempre più acquisendo e diventare un tiranno quindi si passasse da una situazione di stampo isonomico a una situazione di stampo tirannico dove uno avesse il potere definitivo. Ora cos'è che accade noi abbiamo tre fonti di tre autori che sono Diodoro Siculo Plutarco e Cornelio Nepote ora questi ci parlano per esempio del rapporto tra timoleonte e il fratello e cos'è che ci dicono? Beh ci dicono che a un certo punto timoleonte che non poteva vedere il fratello sulla base del fatto che sembrava stesse diventando un tiranno cosa che fece sembra che uccise il fratello oppure sia stato il mandante appunto dell'assassinio del fratello cioè abbia organizzato una congiura per farlo uccidere. Questo è interessante cioè in realtà noi non sappiamo perfettamente non sappiamo se lui fosse stato davvero il mandante oppure magari il mandante ma anche in realtà uno dei membri che uccisero timofane oppure in realtà solo lui in particolar modo uccise timofane effettivamente ci sono più tesi che in realtà sono messi in relazione non sappiamo precisamente però sappiamo in realtà che timoleonte comunque sia si preoccupò della situazione di corinto e portò poi in certo qual modo la morte di timofane. Ora cos'è che accade poi in corinto? I corinzi comunque attenzione erano preoccupati rispetto a questo tipo di situazione perché? Perché? Perché è probabilmente il tema di timoleonte che uccide il fratello ora i corinzi com'è che potevano prendere questo atteggiamento? Va bene magari timoleonte ha davvero a cuore la città di corinto e ha ucciso il fratello per evitare una tirannia in corinto però attenzione se corinto appunto vede una potenziale tirannia noi vediamo in realtà che timofane aveva il potere. Ma il fratello è timoleonte. Ora se timoleonte uccide il fratello una delle ipotesi che prendono piede da parte dei corinzi è proprio quella che timoleonte uccide timofane con di facciata il fatto che lui in realtà lo vuole fare per il bene di corinto e per non far sì che finisca in una tirannia la stessa corinto. Ma in realtà in fondo in fondo magari è perché vuole egli stesso diventare un tiranno e quindi elimina il fratello. Questa era una delle potenziali ipotesi che come dire cominciò a svilupparsi negli animi di alcuni corinzi. Al che a un certo punto quando gli ambasciatori di Siracusa arrivarono per chiedere qualcuno una spedizione che andasse loro in aiuto per liberarli dalla tirannia di Dionisio i corinzi cosa che fecero? Beh sulla base di queste tre fonti che noi abbiamo ecco è quindi di Diodorosicolo, di Plutarco e di Cornelio de Pote un po' comparandole si arriva a pensare appunto che i corinzi scelsero di mandare proprio timoleonte ma perché? Perché la tesi è beh già che noi siamo preoccupati di questo timoleonte e non sappiamo bene perché abbia ucciso Timofane perché magari davvero l'ha ucciso perché aveva cuore a corinto ma non si sa mai noi lo mandiamo così se effettivamente ha successo a Siracusa noi effettivamente chiudiamo entrambi gli occhi e diciamo beh lui ha salvato Corinto e ha salvato anche Siracusa la colonia della madre patria. Ma attenzione se lui fallisce gli dèi in realtà le parche no dimostrerà il destino ci dimostrerà in realtà che costui più che salvatore di Corinto è un uccisore del fratello e in potenza anche un potenziale tiranno egli stesso a alla pare un po' di Dionisio tiranno della maglia Grecia. E quindi ecco diciamo che da questo punto di vista i corinzi trovarono questo escamotage per scegliere l'uomo che per loro per quanto avesse attuato un'azione anche da un certo punto di vista per alcuni magari più riprovevole da un certo punto di vista per altri molto importante ed esemplare per la libertà dei corinzi però era da sceglierlo e quindi mandarono appunto timoleonte. Da questo punto di vista vedete comunque come agivano in questo senso i greci. Ora questi sono comunque due esempi però la cosa interessante è che sono esempi tra l'altro che si collegano da un lato Siracusa che vuole essere liberate che non è po' più di Dionisio del padre poi del figlio. E invece Corinto che sulla base appunto di quello che accade all'interno della città e sulla base del fatto che non vuole la tirannia sceglie sulla base appunto del fatto che non vuole la tirannia un uomo per liberare la città che Corinto ha colonizzato da una stessa tirannia. E quindi da qui poi ha inizio la spedizione di Timoleonte che viene scelto per liberare appunto Siracusa. Ciao.